L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione. L'amore è l'unico dono che aumenta quanto più ne sottrai. È l'unica impresa nella quale più si spende e più si guadagna. Amare e donare. È gratis. Questo è il segreto della felicità. Questa è la terra promessa. Questo è il vostro cammino. In questo cammino allora non manchi mai un tocco di classe. La capacità di dimenticare sempre i torti e mai le gentilezze. Come dice Paolo, scrivete i torti ricevuti sull'acqua e scrivete le gentilezze ricevute sulla roccia. Così sarete capaci di rapporti stupendi tra voi con i vostri cari e con i vostri amici. Sì. 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 Sì.